Noto conviventi peccati con cocaina e hashish, il 25enne in carcere, la donna 33enne e i domiciliari. Per il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze in concorso, agente del commissariato di Noto, hanno arrestato un uomo di 25 anni, attualmente a regime di arresti domiciliari, e una donna di 33 anni. I due conviventi, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di una busta di cocaina, 37 grammi, occultate nell'armadio della camera da letto e mezzo panetto di hashish, 32 grammi, un bilancino di precisione, banconote, coltelle e cellofan per confezionamento dosi adegiato sul davanzale della finestra. Dopo le incombenze del rito, l'uomo è stato portato in carcere e la donna posta agli arresti domiciliari. Nella pomeriggia di ieri, agente del commissariato di Noto, hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 25enne in conseguenza della revoca dell'affidamento in una struttura terapeutica. Lo stesso otteneva una condotta strazionistica e violenta nei confronti degli operatori della comunità, non seguendo il piano terapeutico e per tali motivi l'autorità giudiziaria ha emesso l'ordine di carcerazione. Il giovane è stato accompagnato nella casa circondariale di Cavadonna. Grazie.